Anche a Teramo un corteo per fermare il massacro di Gaza, appuntamento domani in zonatigli da parte del Comitato Solidarietà per la Palestina, per chiedere lo stop al massacro della popolazione di Gaza ed esprimere solidarietà per i civili. Al grido Palestina Libera si svolgerà la manifestazione che è organizzata dal centro politico Santa Croce. Un corteo di solidarietà con Gaza rispetto al massacro genocida che sta compiendo Israele. Sono 119 giorni di guerra, 27.000 morti, 66.000 feriti, 19.000 orfani. C'è una situazione assolutamente disperata e disperante. Nel nord di Gaza sono arrivati a mangiare il cibo per animali perché è l'unico cibo che possono consumare. Hanno massacrato, stanno bombardando scuole, università, strutture sanitarie, ospedali, ambulanze. Quello che sta compiendo Israele è un vero e proprio genocidio e d'altra parte ciò che ha detto la Corte Internazionale di Giustizia il 27 gennaio a Laia quando ha preannunciato che ci sono plausibili ragioni per ritenere che Israele possa rispondere del crimine di genocidio. E quindi noi invitiamo domani, 3 febbraio, appunto alle 16.30, a partecipare al corteo di solidarietà con la popolazione palestinese per chiedere la libertà della Palestina. Il corteo domani partirà dal viale Dei Tili, viale Mazzini e arriverà fino a dove? Arriverà a Piazza Martiri passando dal corso nuovo. Partiamo da qui sperando che ci sia molta adesione da parte delle persone che noi siamo sicuri che ci sono tantissimi che condividono questa iniziativa. Ci ritroviamo di nuovo qui a Teramo per esprimere la nostra piena solidarietà al popolo palestinese che sta soffrendo da più di 75 anni e che questo genocidio adesso non ha paragoni nella storia. Quindi un genocidio programmato molto forte che sta cercando di esterminare questo popolo che lotta per riavere le sue terre e la sua libertà.